La Sisse Roma va a Catania alle FANASIX per? Per far vedere chi siamo. Fare il meglio possibile, non voglio dire nient'altro. Vincere. Questa squadra può arrivare dove vuole. Signore e signori, questa è la finale Scudetto 2019. Buona fortuna in poche lungo. Sisse Roma. Come numero uno, Fabiana Sparano. Sui numero sette, capitano Domitilla Picozzi. Corso e mister Marco Cavana. Uno, due, tre. Sono quattro tempi, sono solo quattro tempi rispetto a tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Non ci accontentiamo, non ci ferma nessuno, ci manca un passo alla fine della montagna. Ci dobbiamo prendere. Uno, due, tre. Non ci siamo 95 tuh. Ci dobbiamo prendere. Una flzzo di persone. Non ci fermiamo il mondo, noi ci fermiamo, anche se ru Kindasini. Ha fatto un tanto percipo. Siamo la vicino mancilla, un tanto percipo più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.